Buongiorno carissimi amici Juventini e Juventini, bentornati sul mio canale, tanto prima di andare a pranzo, sto leggendo le ultime notizie per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo, ma da quanto sembra abbiamo un De Laurentiis che sicuramente avendo ancora un anno di contratto la vedo molto dura, comincia a mettere i piedi per terra, comincia a sbattere, vorrebbe qui, vorrebbe là, adesso sta pensando la nuova tournée, i festeggiamenti, però aggiuntoli credo che possa diventare un direttore sportivo con le palle, credo che sia importante per la Juventus, in programma in occasione, poi chi sarà il nuovo allenatore non lo so, quello si vedrà, certamente che se rimarrà Allegri sicuramente un direttore sportivo con le palle sicuramente sarà molto valido, però abbiamo purtroppo, sapete benissimo, anzi io faccio una piccola scommessa con voi, soprattutto magari commentate, questo video sarà una scommessa, voglio vedere effettivamente se il nostro amico ADL, al regno De Laurentiis, cederà diciamo all'invito della Juventus del passaggio del suo direttore sportivo, io non la vedo molto bella, fatemi sapere, commentate, soprattutto magari condividete il video se vi è piaciuto e noi ci ragioniamo questa sera con i video delle 6 di pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e vi auguro un buon prezzo, ciao ragazzi, fino alla fine, forza a tutti!